Stamattina dobbiamo dare un messaggio molto importante, che è quello di stare attenti all'ambiente e di cercare di non inquinare, di non buttare in giro le plastiche e anche un uso più consapevole della plastica appunto. Un chilogrammo di rifiuti ogni metro di fiume, l'iniziativa Puliamo il fiume nel Lungarno delle Monache a Prato Vecchio ha permesso di rinvenire circa sei quintali di rifiuti in meno di 600 metri di corso d'acqua. Un'iniziativa organizzata dal Consorzio Bonifica e dal Comune con il supporto delle associazioni Civitas, Prato Veteri e Pescatori Casentinesi e che ha visto anche la partecipazione delle scuole. Vorrei che il concetto di pulire l'ambiente venga riportato poi nella scuola, nella propria casa, nell'ambiente di gioco. Ecco, questo è il mio obiettivo. Tra gli oggetti ritrovati è anche una vecchia regionita in segna stradale di Prato Vecchio che sarà restaurata per dire stop al fenomeno ancora troppo diffuso del fiume di Scarica. Questo poi diventerà un tratto di pesca speciale, abbiamo capito. Sì, questo è un progetto che ha portato avanti il Comune di Prato Vecchio Stia attraverso un progetto dei contratti di fiume e anche un finanziamento da parte della regione toscana proprio per regolare in questo tratto un regolamento di pesca specifico. È un progetto che vuole portare le persone a vivere di più il fiume anche attraverso la pesca ed è un progetto rivolto sia ai locali che appunto possono essere interessati a questa attività ma anche un'attrattiva turistica per tutti coloro che sono appersonati di questo mondo.